E manca il televisore che arriva stanotte, arriva a Fabio Mazzurana che ha preso un furgone da Milano e sta venendo giù a Roma Sono le 100 pollici, le 18 e 12 minuti Visto che il Corriere ha fatto... Sì, diciamo bellissimo, monitor LCD Bravia Sony da 100 pollici, 2 metri e 20 di base, tanta roba Tanto non piove quindi la strada sarà tranquilla Leggero, un po' godraffi Fai l'unbox, ti sei persa la parte migliore che lo stuporò con il viso Sì? Sì? No, ma non lo scusate, perché 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 lo scusate Ma il ritardo è molto buono, bellissimo Come va, perci, così? Grazie Va con la parte piena all'esterno Quindi questo va qua e l'altro va di là Mua Aiutiamo? Aiutiamo Vieni, vieni, c'è una malta che c'hai finito Gente giovane, Dio l'aiuta È sempre Qua c'è un punto di presa Ah, dov'è? Allora La sapete la barzelletta casellante? Non c'è un cazzo Ma conviene Casellante, poi sotto Dai, uno, due Tre Prego il carrello? Vai Piano 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 Cerino Occhio Meglio i proiettori, eh Ma c'è qualcuno sotto, le gambe di Emilio Aspetta Emidio, metti in uno, se è il tuo Ok Allora Aspetta la mano Facciamo l'altra maniglia Facciamo la 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 maniglia Montaggio 100 pollici Facile, facile Molto Wow